Come sindaco di Piegaro posso dire che sono molto entusiasta di ripetersi anche quest'anno dell'evento Anabasi, ormai un appuntamento fisso nel nostro territorio che diventa anche un evento molto importante. Questo ci fa vedere anche che la collaborazione quando è fattiva e quando è fatta da professionisti sicuramente è una collaborazione reciproca e importante che porta poi frutti rilevanti per il territorio di Piegaro e dintorni. Sono occasioni d'oro che vanno sicuramente aiutate e vanno spronate perché riscoprire le campagne nelle loro attività, nelle loro peculiarità anche con il semplice passaggio di un turista e dei turisti è un elemento sicuramente significativo della riscoperta e del mantenimento dell'anima delle nostre campagne e dei nostri territori. La presenza di un turismo non solo regionale ma da tutta Italia e anche dall'estero porta a una riscoperta nell'immediato durante l'evento e sicuramente con una possibilità di ritorno successivamente ad esplorare e a vivere le nostre campagne, che sono campagne ancora vive. Quel continuum, quel legame senza soluzione di continuità tra i prodotti tipici e l'agricoltura. Sono due fenomeni che si abbracciano, consideri che noi abbiamo molti agriturismi che quindi danno recettività e ospitalità, Piegaro arriva a quasi 700 posti letto nel suo territorio tra casse vacanze e agriturismi e una florente attività di imprese agricole che sono importanti per la produzione di prodotti tipici locali, specialmente olio e vino. Ci sono importanti aziende nel territorio che hanno prodotti anche di elevata qualità. Piegaro ha diverse possibilità nella visita che possiamo immaginarci in questo territorio. A parte dei piccoli borghi, ricordo Greppoli Schieto, Gaiche, che sono delle perle da un punto di vista anche architettonico, strutturale, ha bellissime colline, sentieri, i sentieri del Perugino sono l'ultima realizzazione che è stata fatta in questo territorio, che collega un po' il città della Pieve con i comuni limitrofi in un percorso, siamo i sentieri del Perugino nelle terre del Marchese, nelle terre che erano della Cornia, in un territorio che è legato alla vita ovviamente del Perugino. Abbiamo un'abbazia sempre che è stata proprietaria della Cornia, che è l'abbazia dei Sette Frati di Pietrafitta. Abbiamo diverse chiese e chiesette sparse nel territorio che sono delle perle da un punto di vista artistico molto importanti. abbiamo anche due centri, li chiamiamo così, di aggregazione e di riferimento, sono Montarale con la sua baita e con il suo parco, il lago di Pietrafitta con le sue strutture. Abbiamo due musei importantissimi, uno radicato al centro storico di Piegaro, quindi alle radici del vetro, che è una radice millenaria per la terra di Piegaro, il vetro. Consideri che molte vetrate del Duomo di Orvieto sono fatte con i vetri che provengono da questo che era la vecchia fabbrica dove oggi trovate il museo. E poi il Museo Paleontologico di Pietrafitta, che racchiude una collezione paleontologica unica in Europa, che è frutto del lavoro di un operaio Enel, Luigi Boldrini, a cui poi dà il nome il museo, che ha raccolto una collezione negli anni importantissima, unica in Europa, oggi visibile all'interno di questo museo, che è un unicum a livello europeo.